Abbiamo oltre 108-105 carenze di medici di medicina generale sul territorio. A partire dallo storico medico di Chirignago, la dottoressa Paola Bassetto, che a fine mese andrà in pensione. 2000 pazienti, le incombenze burocratiche e il non poter far ferie per mancanza di sostituti l'hanno portata a prendere questa decisione. L'ULS tamponerà con una sostituzione per i mesi estivi prima dell'arrivo del nuovo medico, ma numeri alla mano la carenza è in aumento. Da 21, dice lo SPCGL, nel 2019 a 58 nel 2022 per l'ULS3, mentre nel Veneto orientale da 25 nello stesso periodo a 44. Bisogna affrontare il tema sanità, sanità pubblica in modo radicale, perché queste carenze producono diversi aspetti negativi per le persone. Perché le persone in assenza del medico di medicina generale o con soluzioni tampone, cioè con soluzioni di accorpare zone con altre zone eccetera, rendono sempre più difficoltoso l'accesso al medico di medicina generale, quindi intasamento dei pronti soccorso, intasamento di strutture. E sempre più ricorso alle visite private a causa delle liste d'attesa o ancora peggio c'è chi si vede costretto a rinunciare alle cure. Problemi tutti che ci dicono che dobbiamo andare a pagamento, per fare veloci dobbiamo pagarci le prestazioni, perciò sono molto in difficoltà gli anziani qua da noi.